Abbiamo giocato una brutta partita dall'inizio alla fine, dovevamo fare meglio, abbiamo preparato la partita per poterla giocare in modo diverso, invece non siamo riusciti a mettere in campo quella voglia che ci vuole quando devi fare il risultato a tutti i costi e purtroppo quando non hai l'atteggiamento giusto e non vuoi con il cuore raggiungere questi tipi di risultati vai incontro anche a queste gare. Noi dobbiamo continuare a lavorare, a cercare di vincere le partite perché abbiamo la possibilità di farlo, sicuramente dopo la gara di oggi diventa ancora più difficile, però il nostro lavoro va avanti, i nostri obiettivi rimangono gli stessi e cercheremo di farlo al meglio. Ho parlato con Arthur, purtroppo era deluso per il passaggio fatto, un calo di concentrazione perché non aveva visto l'avversario dietro a Bonucci e quindi aveva preferito giocare direttamente su Danilo invece che passare dal portiere. Sono cose che purtroppo non devono capitare perché un passaggio orizzontale davanti all'aria è sempre pericoloso e poi ti portano anche a fare errori. Però se non sei concentrato e non hai la fame e la voglia di vincere queste partite poi rischi di andare incontro a queste brutte sconfitte. Le parole non bastano, poi bisogna fare i fatti in campo. È quello che ho detto ai ragazzi, è inutile parlare e raccontarci di storie se poi in campo non abbiamo quella voglia di raggiungere i risultati. Oggi è mancato questo, avevamo la possibilità di far meglio, di accorciare la classifica, però quando hai questo tipo di blackout poi diventa veramente difficile. Ma no, è inutile stare qua a commentare su un episodio della partita. La partita è stata fatta male quindi non ci attacchiamo a questi episodi, dobbiamo riuscire a vincere la partita anche senza questi tipi di episodi. Noi continueremo a alimentare la nostra voglia di arrivare fino in fondo. Come ho detto prima sarà molto difficile, però noi dobbiamo continuare a lavorare, a cercare di migliorare, soprattutto dopo anche gli errori fatti e commessi oggi pomeriggio. Sono preoccupato per la sconfitta di oggi perché non era la partita che avevamo in programma e quello che avevamo nella testa di voler fare. Quindi se vado ad analizzare la gara non basta, bisogna guardare a tutto quello che è successo oggi. Purtroppo non devi stare lì a guardare cose tecniche e tattiche, ma all'atteggiamento sbagliato che abbiamo avuto. Non mi è piaciuta la parte iniziale, soprattutto quando abbiamo commesso tanti errori dove loro arrivavano sempre prima sulle seconde palle, perdevamo tutti i contrasti. Quando non hai questa fame, questa aggressività, poi rischi anche di perdere le gare contro il Benevento che ha fatto una buona partita. Sono tanti errori individuali che messi insieme poi ti portano a perdere punti. Purtroppo è capitato tante volte quest'anno e abbiamo lasciato tanti punti in giro. Sono cose che bisogna migliorare perché bisogna essere concentrati, affamati fin dal primo minuto per voler centrare gli obiettivi. Se non ce l'hai, poi dopo rischi anche di fare queste brutte figure. Non è un atteggiamento, ma questi sono errori tecnici individuali. Quindi sono difficili da cambiare per un allenatore perché non è nella testa del giocatore. Può arrivarci fino a un certo punto, ma poi sono i giocatori che vanno in campo e magari hanno questi attimi dove magari non hanno la concentrazione al centro per cento. Possono capitare, ma non devono capitare perché bisogna essere sul pezzo, sapere la squadra dove si gioca, cercare di farla al meglio perché anche in questo periodo avevamo la possibilità di continuare il nostro cammino, avevamo un atteggiamento molto più aggressivo, molto più vogliosi. Invece non lo siamo stati, questa è la cosa che non mi è piaciuta oggi pomeriggio. Io ho sempre un confronto con i miei dirigenti, con il Presidente, ci siamo parlati anche dopo la partita. Adesso analizzeremo bene quello che è successo oggi, abbiamo due settimane di tempo, tanti giocatori andranno in nazionale, quindi ci sarà il tempo per analizzare quello che è successo oggi. Però bisogna abbassare la testa, lavorare e cercare di evitare che si possano ripetere. Sul mio futuro, l'ho già detto mille volte, io continuo a lavorare e poi ci sarà una società che deciderà. Quindi io lavoro giorno per giorno, partito dopo partita, per cercare di fare il meglio per questa squadra. Poi alla fine dell'anno ognuno tirerà le sue somme e deciderà il futuro di ognuno. Ronaldo ha fatto la sua partita, ci sono due attaccanti, lui e Morata, che si dividono tutta la fase offensiva e la fase centrale. Quindi a volte poteva partire a destra, a volte a sinistra, quindi si potevano scambiare come volevano le posizioni in campo. È importante che fossero sempre in due là davanti. Grazie.